Sembra che il centro-destra sia molto compatto, oggi abbiamo l'amico Marco Gabrielli che con il senatore Qualiarello presenta anche la sua lista, per cui sono liste di appoggio al sindaco e alla sua coalizione, per cui direi molto molto bene da questa parte. Continua la corsa alle elezioni comunali, oggi è stata presentata la lista Cambiamo Trieste, capofile al consigliere comunale Marco Gabrielli per appoggiare la candidatura al già sindaco Roberto Di Piazza. A sostegno della campagna elettorale per la conferma dell'attuale primo cittadino, anche il senatore di Cambiamo Gaetano Qualiarello. Noi stiamo cercando da tempo di fare una costruzione dal basso del nuovo mondo dei moderati, è un territorio lasciato completamente inesplorato dalle forze politiche, non si costruisce con operazioni di palazzo, si costruisce con operazioni dal basso. Qui a Trieste vi sono persone che fanno parte di questo mondo, quel mondo cristiano, liberale, che manca di una rappresentanza, che hanno lavorato all'interno dell'amministrazione e che piuttosto che prendersi un posticino in questa o in quell'altra lista, cercano di essere il valore aggiunto di questa coalizione. Tra i punti del programma il potenziamento dell'offerta turistica, gli interventi sull'edilizia scolastica, favorire lo sport giovanile e rilanciare le attività culturali, ma anche l'attenzione verso il disagio e l'emarginazione sociale. Una maggiore attenzione verso le fragilità, tutte quelle situazioni di sofferenza che derivano un po' dal lockdown, aggravate dal lockdown, non solo in termini economici e sanitari. Noi cerchiamo di portare un cambiamento al modo di far politica, è una lista che nasce recentemente, ma nasce da un'amicizia che dura da anni, che si è ultimamente allargata a nuove persone, entusiaste, la grande maggioranza delle quali senza esperienze politiche, ma che vogliono in qualche modo avvicinarsi.